Oggi bisogna faticare a stargli dietro Ho tolto anche il bauletto oggi Non so quanto dura il salsicciotto lì davanti Adesso facciamo le coste, bisogna stare attenti all'autovelox Ce n'è uno qua e uno dopo E' un tutor Vrado Vrado Bilo Vrado Grazie a tutti. E' dura, sto sudando per tenerlo dietro e lui non sta spingendo un cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Imposto XR, modello vecchio, non l'ultimo modello. Allora, impostazione di guida non è quella originale, però va bene. C'è il manubrio più stretto della mia, mi sembra. Cambio elettronico è comunque molto bello, molto fluido. Che bellina che è la mia multi da dietro. Carina proprio. Eh, quattro cilindri o due cilindri, è una bella teoria quella lì. Ho sempre avuto quattro cilindri, ma da quando ho queste due cilindri faccio fatica. Sì, c'è una modulabilità esagerata col quattro cilindri. Sono in terza da un quarto d'ora. Con la mia avrei già cambiato 70 marce. Devi esser su di giri per farla andare questa. Cambio è un figlio. Insomma, devi farla urlare face per farla andare, però. Se la fai urlare, allora va. Ne hai quanto ne vuoi. Il motore ha niente da dire. E poi vibra tantissimo. Ti vedo sorridere dal casco. Ma vibra face il manubrio, figa. A te piace il vibratore? Quando sei costante a 60 all'ora, fa così lo sterzo. Quello è un difetto di tutte, penso, l'XR. Far val di dentro da solo con la mia moto. Va bene. Noi facciamolo con questa. Non mi dà fiducia per niente quel manubrio qua. Di non mettercela lui per cappello perché i soldi per pagare la non ce li ho. Mamma che brutte cose per cambiare l'automatico. Non sono capace, figa. Lo vedo, lo vedo. Sono un po' troppi, eh. Tutti insieme. Ci manca un pullman. Ci manca un pullman in mezzo. Non. Eh, la settimana sbagliata. Guardung. 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 Grazie a tutti. 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 Non mi piace per due motivi. Vibra il manubrio in una maniera indescrivibile. Io non so come faccia a non farselo andare bene. La mia non fa assolutamente una vibrazione simile. E sto motore è dio buono, devi lasciarlo su 82 mila giri per farlo andare. Quindi? Quindi? Quindi è visto come alienante quando vedi quello davanti che fa pu... Figa di motore ce n'è quanto cazzo ti pare? E' un'altra... E' un'altra... scopro sempre qualcosa di nuovo... che è un'altra... che deve essere vivere in un posto così però... fresco... che è un'altra... 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 Grazie.